5 cose che non sapevi sul capodanno Beh, in questo video te ne rivelerò molte di più, ma per comodità le ho raggruppate in 5 categorie. Vai con la sigla! Una data per il nuovo anno Il nuovo anno arriva con il primo di gennaio, lo sappiamo, ma non sempre è stato così. Innanzitutto c'è da dire che furono i babilonesi, 4.000 anni fa, ad avere l'idea di festeggiare il capodanno. 2.000 anni più tardi a Babilonia lo si prese a festeggiare con la prima luna dopo l'equinozio invernale, ossia il primo giorno di primavera, ed i festeggiamenti duravano 11 giorni. I Celti festeggiavano l'arrivo dell'anno nuovo ad Halloween, nella notte tra il 31 ottobre ed il primo novembre, mentre i bizantini il primo settembre. Gli antichi romani lo festeggiavano a marzo. In Spagna era festeggiato sino al 1600 il giorno di Natale. Fu solo nel 153 a.C. che il senato romano fissò la fattidica data al primo gennaio, data che fu confermata nel 46 d.C. con il calendario giuliano. Cibi porta fortuna. La tradizione vuole che siano tutti quei cibi che hanno forma di anello o di cerchio, simbolo di perfezione e di chiusura di un ciclo. Quindi, ecco perché porta bene mangiare lenticchie, uva e melograno, ad esempio. Le lenticchie simboleggiano anche la ricchezza. In Spagna, gli ultimi 12 secondi prima del nuovo anno, si usa mangiare un chicco d'uva per ogni secondo, mentre la mitologia insegna che il melograno è il simbolo di fedeltà coniugale. Azioni porta fortuna. E' usanza, o almeno lo era di più un tempo, gettare gli oggetti vecchi fuori dalla finestra. Questo a simboleggiare il liberarsi da tutte le negatività. A Porto Rico i bambini tirano dalla finestra secchi d'acqua, nella convinzione di scacciare gli spiriti maligni. Incontrare una persona anziana o di un gobbo a mezzanotte è di buon auspicio, in quanto simboleggia una lunga vita. Incontrare preti e bambini, invece, non porterebbe bene, in quanto nei tempi passati indossavano indumenti di color viola e ciò non era ritenuto di buon augurio. Baciarsi sotto il visco, invece, è cosa auspicabile e di buon augurio. In Svizzera si lascia, in segno di buon auspicio, una goccia di crema sul pavimento. Indossare un indumento di colore rosso Per gli antichi romani il rosso era il colore della salute e della felicità, mentre un'antica tradizione cinese vuole che, per allontanare una divinità negativa di nome Nian, si indossi qualcosa di colore rosso, appunto. E per finire, oggi il Capodanno lo festeggiamo il primo gennaio. Perché? Nessun perché. Nessun equinozio, nessuna ricorrenza particolare. Solamente una convenzione. E tutti, con questa convenzione, ci proponiamo qualche buona azione per l'anno a venire. Mettersi a dieta. Mettersi a studiare di più. Smettere di fumare. Azioni che, sicuramente, saranno ripetute. Con la speranza, questa volta, di applicarle veramente, e per tutti i 365 giorni, l'anno successivo. Bene, vi ringrazio per la visione. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Mettete un mi piace, così mi sarà di incoraggiamento a proseguire nei miei video. Grazie per l'ascolto e a presto da Lucoral. Grazie per l'ascolto e a presto.